In una valle di stand, in una valle di dio, la valle di poverso già, e ma dire, chi si diceva ma di bo? No, evoca un uccasso, un uccasso, da un uccasso. Io non lo direi che si era, uai a ribili che si era, uomai li lo direi passi qui era. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Chiava il palazzo così, muro l'ambio kelle di pesce e il ciò che dice un'abbiano, la collezza molto importante, L'abbiamo, un'abbiamo a fare una ragazza, una macchina cheulla l'abbiamo, L'abbiamo con una scuola che fuga. L'abbiamo abbiamo vinto lui, a chiede di banan te chiede un buonan un gaiyavano un du oula e kate buon uchizi un mule avasino un an, a chiede a sara a le kawani ki chiede un uwe gano un gai da me gano e gano, fano koba to zona soko gano, non ujani ta zona tro bagi, tro in laggi tro ze obbe, tro na, tro ze obbe to an un gano, un gano, un puye ye ken un gano, un tiyekengbocho e ibangaja pa when u e numam bagagawunka le kolige binio un gano kole biinho ba go fokadon un gano bi i ga a l otro bloko loko soji ye i fokadana pata ye i bwogo i gano wangotele ubuena wara boku namo duka lata yati el ne ekiwi i gano vale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.